E' tempo di gara 4, l'appuntamento con la storia, uno di quei giorni che sogni sin da bambino, non solo per gli altreti che scenderanno sul parquet, ma soprattutto per quelle migliaia di tifosi che hanno fatto del Pala del Mauro una seconda casa. Un appuntamento con la storia per lo sport irpino, perché mai si è stati così vicini ad una finale per la conquista del trofeo più ambito, lo Scudetto. Guai però a fare voli pindarici e questo è il diktat di coach Sacripanti che stasera vorrà innanzitutto difendere il fattore campo per distanziare Venezia e portarsi sul 3-1 per poi avere successivamente ben 3 match point per chiudere la serie. Entusiasmo alle stelle in Erpina con il Pala Sport sold out in ogni settore. Un Pala del Mauro bollente come già avvenuto in gara 3 per battere una Venezia forte tecnicamente, ma in grado di sciogliersi al cospetto di una componente che questa Scandone non ha mai fatto mancare, il grande cuore. E così stasera alle 20.45 oltre 5.000 cuori bianco-verdi sono pronti ad unirsi a quelli dei 5 lupi sul parquet per continuare a vivere un sogno. Forza Scandone, la finale tricolore è davvero vicina.